22 dicembre La riflessione veglierà su te e l'intelligenza ti proteggerà. Proverbi 2.11 Intelligenza spirituale Dio ci ha dato un cuore per amare ed uno spirito attraverso il quale possiamo realizzare la presenza del Signore. Siamo stati fatti a Sua immagine per manifestare le Sue virtù come l'amore, la bontà, la santità. Tra noi e Dio, però, si è posto un ostacolo insuperabile che guasta il nostro essere e ci allontana da Lui. Il peccato che si manifesta con un forte desiderio di indipendenza da Dio. È una forza interiore che ci domina, privandoci degli alti fini per cui siamo stati creati. La drammaticità di questa condizione è che ci si abitua a vivere come se Dio non esistesse. È insensato escludere Dio dalla nostra vita. Chiediamogli di farci capire. Leggiamo il Vangelo e ci sarà rivelato che Gesù ha distrutto l'ostacolo del peccato e vuole avere cura di noi. Rifletti. La tua vita può cambiare, non per le tue capacità, ma per la potenza e l'amore di Dio. Quando con tutto il cuore accetterai Gesù come Signore, Egli chiederai perdono. Egli ti darà con la sua pace e la sua gioia anche un nuovo modo di pensare. Un discernimento per vedere le cose come sono nella realtà spirituale. L'intelligenza ti proteggerà. La guida dello Spirito Santo veglierà su te. Spergera della nostra vita. Grazie a tutti. Grazie a tutti.